Giovanni De Palma, abruzzometeo.it, aveva segnalato l'allerta domenica già dalle prime ore della mattina. Sarebbe stato meglio che in molti avessero consultato il sito meteo delle previsioni? Diciamo di sì, noi ci sforziamo sempre di aggiornare la situazione meteo per evitare situazioni di pericolo come quelle che sono accadute domenica. In dire il vero avevamo diramato un'allerta anche nella giornata precedente soprattutto a livello locale qui a Montesilvano dove sono stati diramati i bollettini a tutti gli stabilimenti balneari con un'allerta generica perché è una situazione piuttosto complessa ma comunque veniva menzionata la possibilità di vento forte soprattutto tra il primo pomeriggio e la serata. Una situazione che poi si è confermata e ha causato notevoli disagi e danni a me anche purtroppo una vittima. Guardiamo ai prossimi giorni. Diciamo che adesso l'alta pressione tende a rinforzare nuovamente, il tempo migliorerà tra oggi e domani anche se le temperature e i tassi umiditari svolteranno piuttosto gradevoli rispetto ai giorni scorsi perché è giunta aria più fresca che ha spazzato via tutta l'umidità soprattutto lungo la fascia costiera. I valori sono sensibilmente diminuiti ma gradualmente le temperature torneranno a salire almeno fino alla giornata di giovedì. Poi però bisogna monitorare un nuovo probabile intenso peggioramento che potrebbe concretizzarsi a partire da venerdì e nei giorni successivi. L'estate non è finita ma sta finendo? Probabilmente sì perché alla base dei dati attuali si ipotizza un deciso peggioramento del tempo proprio da venerdì è qui che voglio sottolineare bisogna monitorare la situazione perché è qui che potrebbero tornare i temporali di forte intensità come quelli che sono già accaduti. Quindi adesso lo voglio ridire ancora pubblicamente. Seguite tutti gli aggiornamenti perché da venerdì il tempo oltre a peggiorare c'è la possibilità di fenomeni di forte intensità e potrebbe anche essere il peggioramento che praticamente metterebbe la parola fine all'estate. Ma si tratta comunque di una tendenza da confermare ecco perché sottolineo di seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro sito. Basta fare un clic su abruzzomedio.it